L'intelligence può essere considerata a buon diritto come una disciplina accademica, così come avviene in tanti altri paesi del mondo. Noi ci stiamo impegnando per questo riconoscimento. Per fare questo stiamo pubblicando anche una serie di libri, una collana edita da Rubettino, che ha affrontato questo argomento da diversi punti di vista. L'ultimo volume è appena uscito, si chiama proprio Intelligence e Scienze Umane e noi riteniamo che proprio l'intelligence possa essere un punto d'incontro delle scienze umane nel XXI secolo, una disciplina importante che serve per capire, per comprendere, per provvedere. Il volume che abbiamo appena pubblicato cerca di tracciare questo percorso perché l'intelligence è una materia interdisciplinare che riguarda più settori, dalla storia alla psicologia, dalla sociologia alle scienze politiche, dalle relazioni internazionali alla criminologia. Quindi è un settore fecondo che ha a che fare con la conoscenza e le sfide del XXI secolo saranno quelle della conoscenza. Rossana Muraca da Cosenza per la CNews24.